VANGELO DI LUCA CAPITOLO I Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. A Edì De Rode, re della Giudea, vera un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore. E non avevano figlioli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne, che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo, al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e i Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figlioli, e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio, e mia moglie è avanti nell'età. E l'angelo rispondendogli disse, Io son Gabriele, e sto davanti a Dio. E sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco tu sarai muto, e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno a suo tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria, e si meravigliava che si indugiasse tanto nel Tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio, e gli facevano loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta, e si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo, Ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni, nei quali ha rivolto a me lo sguardo, per togliere il mio vituperio fra gli uomini. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse, Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola, e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse, Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno, e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. E il Signore è Dio, gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendole disse, Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse, Ecco, io son l'ancella del Signore, sia mi fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò, e si andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria, e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, e a gran voce esclamò, «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, e come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento». E Maria disse, «L'anima mia magnifica è il Signore, e lo Spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché Egli è riguardato alla bassezza della Sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il Suo nome, e la Sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col Suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi, ha soccorso Israele, Suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la Sua progenie in perpetuo. E Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, die alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la Sua misericordia verso di lei, e se rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora Sua madre prese a parlare e disse, No, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero, Non ve' alcuno nel tuo parentato che porti questo nome? E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così, Il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono, e in quell'istante la sua bocca fu aperta, e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo i Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono, le serbarono in cuor loro, e dicevano, Che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo, e profetò dicendo, Benedetto sia il Signore lì Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, e ci è suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide il suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri, e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccol fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace. Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Orish. Orish. Orish.